A Lampedusa l'hotspot da tempo al centro di accuse polemiche e inchieste ora nelle mani della Croce Rossa che lo sta ripulendo. Per oltre un anno le condizioni invivibili erano state imputate al sovraffollamento e le servizie di Giuseppe Marino. Non solo sovraffollamento, queste immagini che risalgono ai mesi scorsi dell'hotspot di Lampedusa mostrano ruggine, estintori abbandonati, pericolosi cumuli di pietre e tanta sporcizia, a partire dalle bottiglie di plastica usate per i bisogni corporali quando c'era troppa fila nei bagni, ma anche padiglioni allagati e impianti elettrici a rischio. Il nuovo questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, appena insediato, ha presentato un esposto. Sotto accusa la gestione della cooperativa Badia Grande, ora estromessa. Intanto ad Agrigento è cambiato anche il prefetto. La precedente gestione è stata allontanata per sostanzialmente in adempimento contrattuale. Una carenza di personale adeguato, una carenza dei servizi medici rispetto a quanto era stato scritto, perché il contratto era fatto molto bene, il capitolato era un capitolato ricco, che prevedeva tutte le forme di assistenza, ultimamente anche nella corrisponzione del pocket money o del cosiddetto kit di benvenuto. La cooperativa replica che sull'isola è arrivato un numero di migranti molto maggiore del previsto, ma la gestione, sostiene la polizia, avrebbe tagliato le spese all'osso. Al momento l'hotspot è quasi vuoto e la Croce Rossa, che subentrerà nella gestione, sta ripulendo e risistemando il centro. Resta da capire come sia stato possibile andare avanti per oltre un anno in queste condizioni. A chiarirlo sarà la procura di Agrigento. Gli organi competenti faranno quanto di loro attribuzione.